Sali al 35% la percentuale di raccolta differenziata nel comune di Torre del Greco. E' il dato che emerge dalla conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Baronale per fare il punto della situazione dopo l'avvio del nuovo calendario per il conferimento dei rifiuti partito lo scorso 23 ottobre. Un dato positivo ma per gli amministratori resta ancora tanto da fare. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco Luigi Mennella e l'assessore alla NU Antonio Ramondo. Tra le novità in programma in arrivo anche isole ecologiche e elettroniche che saranno dislocate in diversi punti della città. Quando ci siamo insediati al comune di Torre del Greco era il 18%. Attualmente i dati ci riportano al 35% è tendente a salire. Insomma abbiamo quasi recuperato il doppio e voi sapete che è importante questo dato perché ovviamente questo opera anche su quello che poi sarà la futura Tari. Quali sono i prossimi passi attendendo la costruzione di un nuovo piano industriale che rivoluzionerà completamente il sistema di conferimento rifiuti per la città di Torre del Greco? Allora voi sapete tutti che abbiamo portato delle migliorie. Anzi in realtà già erano previste queste migliorie nel capitolato da parte ma non sono state mai attuate che sono quelle di distributore dei sacchetti elettronici attraverso il proprio codice fiscale chiaramente. Adesso in questi giorni arriveranno delle isole ecologiche e elettroniche che saranno distruggate in tre punti della città. Isole elettroniche le quali si potrà andare a conferire in qualsiasi orario, in qualsiasi giornata. Ovviamente con il proprio codice fiscale si può inserire a seconda diciamo di quello che si potrà conferire negli appositi settori. Si rilevano ancora in alcuni punti della città degli smaltimenti selvaggi, degli abbandoni selvaggi di rifiuti soprattutto e di materiale ingombrante. Ritiene che ci sia una matrice dolosa? Guardi io non ritengo niente. Io guardo, io vedo, io osservo. Mi ricordo alcuni episodi quando abbiamo messo in pulizia, messo a nuovo alcune strade. Il giorno dopo, non settimane dopo, il giorno dopo, c'erano mobili, ingombranti, cabinetti, bidet. Non ne parliamo materassi che ne troviamo in continuazione. Lascio a voi la valutazione. Parlo in luoghi dove praticamente prima non c'erano. Parlo di materassi che sono neri. Se è matrice dolosa, lo lascio a voi, diciamo, chiaramente immaginare. Purtroppo la partecipazione della città non è adeguata agli strumenti che sono stati messi in campo. I risultati sperati non sono quelli che io mi auguravo. Siamo arrivati a un 34% e con un picco ulteriore del recupero dei rifiuti mercatali di 1,8% giriamo intorno a una percentuale che va intorno al 36%. Non basta perché dobbiamo recuperare un gap che è enorme e dovremo avvicinarci alla quota del 65% che deve vederci impegnati fortemente. L'attuale piano industriale vedrà la scadenza il prossimo mese di settembre. In questi nove mesi l'amministrazione come intente gestire la questione rifiuti in città? Allora, dobbiamo obbligatoriamente continuare su questa strada perché c'è un obbligo contrattuale da rispettare e quindi fino al 24 di settembre non se ne parla. Nel frattempo siamo impegnati su due fronti. Il primo è quello delle procedure di individuare la struttura che noi intendiamo realizzare nell'ambito della perimetrazione del nostro SAD, ovvero del nostro comparto dei nove comuni che insieme a Torre del Greco, comune capofila, gestirà il ciclo integrato dei rifiuti. E' qua l'idea dell'amministrazione per la quale ha chiesto consensi alla cittadinanza è quella di realizzare una società mista con un player dei partner internazionali. Dall'altro lato contestualmente ci muoveremo su un altro binario, quello di preparare una gara a tempo per la gestione del post contratto che è in essere.